Risolvere le controversie legali senza dover ricorrere al giudice? Nel Nord Sardegna si può, grazie all'alleanza tra ConfCommercio Imprese per l'Italia Nord Sardegna e il TGAN, ovvero il Tribunale Giudiziario Arbitrale Nazionale con sede a Olbia. L'accordo, recentemente siglato dai rispettivi presidenti Antonio Sole e Marco Albano, ha sancito la nascita di una nuova partnership che si propone l'obiettivo di promuovere la cultura del giudizio arbitrale e della mediazione civile e commerciale, grazie all'apertura di nuove sedi già operative in tutto il Nord Sardegna, Sassari, Alghero, Oristano, Tempio, Pausania, Olbia e Nuoro, coordinate dal vicepresidente Gianni Deriu. Il servizio di risoluzione stragiudiziale delle controversie è dedicato principalmente agli associati di ConfCommercio, ma si estende a tutti i cittadini, spesso scoraggiati dai costi e dalla durata dei processi ordinari. Il Tribunale Giudiziario Arbitrale Nazionale si avvale di un team di mediatori civili, iscritti presso l'albo tenuto dal Ministero di Giustizia e di giudici arbitri abilitati per risolvere le vicende giudiziarie in meno di tre mesi. Per attivare il servizio basterà recarsi, previo appuntamento telefonico, nelle sedi di ConfCommercio, dove saranno istituiti degli appositi front office contattando i numeri dedicati.